Vieni, vieni pupini, vieni pupetta, vieni, vieni, vieni qui, sei piccina tu, vieni qui, dove vuoi andare, vieni Adesso vi mostro come organizzo il mio pomeriggio qui nell'oasi, vedete? Sono andata a ritirare da mia mamma i tappeti e le coperte perfettamente puliti, quindi io mi sono fatta il lettino e adesso come fa la Mari qui sul tappetino faccio una dormita di un'ora Certo è che Battistina, una teppistella bellittima, bellittima, che ha preso la pastina antivermi sta facendo la birichina, cosa c'è? E' una bambina piccina questa, ciao C'è un ruñetto, c'è un ruñetto